Io penso che abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo vinto su un campo non semplice contro una squadra molto forte che stasera lo è sembrato meno, ma penso non per demeriti suoi perché a volte si ha un avversario forte, stasera la Lazio è stata superiore, ha meritato di vincere, avremmo meritato già al primo tempo di fare un gol in più, però in queste partite c'è da soffrire, questa serata penso che rimarrà a me, alla società, ai miei giocatori perché insomma vincere qui a Marsiglia in questo stadio con questo pubblico non è semplice.